Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi parliamo di news. Parliamo di news, andiamo a capire un po' di cose che sta avvenendo nel mondo Sky. Quindi, iniziamo! Allora, oggi, allora, proprio qualche giorno fa ho visto una mini presentazione del nuovo Sky Glass una cosa veramente, veramente doc, non posso dire niente perché a breve uscirà in tutta Italia a breve uscirà in tutta Italia, la data precisa ancora non la so di preciso però ci sarà, arriverà, lo potrete includere nel vostro abbonamento, nell'abbonamento Sky ci saranno grandi novità, questo si può connetter a internet, alla parabola, varie varie cose e sicuramente, appena mi arriverà, perché tanto lo ordinerò e farò di tutto per farmelo arrivare così lo testeremo e lo proveremo in anteprima. Questo era per dirvi che ci sono grandi novità e soprattutto grandi novità in campo Wi-Fi sì, perché da poco tempo, come potete andare a vedere anche sul sito di Sky Wi-Fi Sky Wi-Fi è stata eletta la rete più veloce del 2022 sono state a confronto altre reti, Team, Vodafone, Wind e tutto quanto ma hanno visto che per il rapporto qualità prezzo e velocità Sky Wi-Fi è la migliore quindi cosa vi voglio dire chi ha problemi, secondo me, potarsi pure che capita che ha problemi di modem si cambia senza problemi, basta che vai in uno Sky Service perché alcune persone non lo sanno, ma se il modem va male o ci stanno qualche problema può andare direttamente allo Sky Service e lo Sky Service vi cambia direttamente il modem lui si riconnette, si riconfigura da solo, autoconfigurante e autoinstallante ha soprattutto l'applicazione che potete interagire a 360 gradi su tutta la linea e ha una nuova interfaccia io ancora non riesco ad averlo qui a casa mia perché non ho la copertura purtroppo della fibra mi devo arrangiare, come voi sapete, doppie linee di qua, doppie linee di là però ci accontentiamo quindi quello che volevo dire era questa nuova novità la novità di Sky della linea ultraveloce mi raccomando, se ancora non l'hai fatto mi vuoi scrivere, chiedere informazioni di tutto di più su queste cose non ti preoccupare, scrivimi anche in diretta anche sulla mia email dove puoi leggerlo o anche in descrizione ma mi raccomando, iscriviti al canale lascia un like e soprattutto teniamoci sempre informati queste grandi novità saranno per arrivare quindi, secondo me saranno grandi novità io attendo con entusiasmo voi attendete con entusiasmo so che alcuni di voi mi hanno scritto ma Andrea quando esce Andrea di qua ragazzi non lo so secondo me a breve uscirà è bello, interattivo e è un nuovo mondo cioè avete il nuovo modo di comunicare avete il nuovo modo di guardare la televisione di interagire a 360 gradi con il vostro televisore già i vostri televisori lo fanno ma questo sarà una cosa nuova quindi non vi dico niente più altro non vi spallo più niente niente date niente tutto vi dico solo state attenti ai prossimi video perché appena avrò la possibilità di mettere le mani lì sopra avrete un grande video soprattutto con una grande connessione perché quel televisore ha bisogno di una grande connessione e Sky vi dà la possibilità di fare tutto questo se siete interessati mi raccomando iscrivetevi e soprattutto lascia un like iscriviti al canale ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao